Tu che cosa hai fatto? Io ho fatto calcio, basket, tennis e tanti altri. Tu? Io ho fatto la corsa cronometrata, calcio, la corsa ostacoli e molti altri. A me mi è piaciuto salti e ostacoli e calcio. Ma vi siete divertiti qua? Molto! Molto! Basta, cosa vuoi dire? A me è piaciuta molto questa esperienza e spero di rifarla anche il prossimo anno. È l'entusiasmo dei più piccoli ed essere protagonista al Beltrametti. Erano 400 i bambini per un totale di 20 classi a cimentarsi nelle più svariate discipline sportive, dalla pallavolo alla corsa ad ostacoli. Gioco Sport 2014 è andato in scena questa mattina. Si tratta dell'evento conclusivo dell'iniziativa promossa dal CONI nelle scuole. È come sempre l'atto conclusivo di questo progetto di attività motoria che facciamo nella scuola primaria. Quest'anno siamo riusciti a portare a termine questo progetto a livello locale. Non è più previsto a livello nazionale, ma con tanti sacrifici siamo riusciti a farlo. 1.500 ore di attività motoria durante il secondo quadro maestro dell'anno scolastico e oggi questa festa finale i bambini hanno provato attraverso il gioco un po' tutte le discipline sportive. È stato un grande sforzo proprio perché è un'iniziativa che è diventata solo del CONI poi in Piacenza praticamente. Noi ci crediamo, continuiamo a farla perché è la base della promozione sportiva. Grazie. 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 Grazie.